finalmente torna il salone internazionale del libro di torino con il titolo vita immaginaria il salone del libro con il comune di torino e la città metropolitana vorrebbero comunicarvi una bellissima notizia ci sono oltre 120 radotti con accessibilità lis sul sito del salone del libro cliccando nella sezione visita troverete tutte le informazioni generali per i visitatori e troverete anche informazioni per i visitatori con disabilità attenzione per vedere quali sono gli eventi tradotti in lis dovete scaricare il pdf del programma dove sono segnalati con il logo quelli tradotti l'evento inizia da giovedì 9 maggio fino a lunedì 13 maggio gli orari del salone sono giovedì domenica e lunedì dalle ore 10 alle ore 20 venerdì e sabato dalle 10 alle 21 vi aspettiamo per vivere insieme l'esperienza di vita immaginaria quali sono gli eventi tradotti in descrizione l'evento in scena sono gli eventi tradotti in seguita piccoli anche se si avvicini con il grande polizzi è dito Grazie a tutti